Ormai lo sapete praticamente tutti, il Senato come era ampiamente prevedibile ha concesso l'autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini, il principio è secondo i senatori che quindi Salvini, uno di loro, dovrà andare a processo per sequestro di persone, di 131 persone, quando la nave Gregoretti è stata tenuta a largo e quindi secondo l'ipotesi del Tribunale dei Ministri addirittura rischierebbe con tutte le aggravanti l'ex ministro Salvini i 12 anni di carcere, io penso che noi si viva in una barzelletta, in una gigantesca barzelletta ovviamente come sempre quando si parla di Salvini, se uno prende la posizione di Salvini non basta averlo criticato per le minchiate che ha fatto dal punto di vista economico, ma se uno prende in difesa non Salvini ma il principio al quale legato questo processo viene considerato un cretino di destra, ecco voglio fare il cretino di destra, semplicemente il liberale, quello che non è più il foglio, quello che non è più il Corriere della Sera se lo è mai stato, quello che non sono più tutti quei grandi opinionisti che sono garantisti soltanto quando si parla degli affari loro, vi rendete conto di che cosa stiamo facendo in questo momento? Se c'è un caso, un caso per cui l'autorizzazione a procedere non bisognava darla è nei confronti di un ministro che ha semplicemente fatto quello che il Consiglio dei Ministri gli aveva permesso di fare in tutti i mesi precedenti, se non la condividete questa politica, questo è perfettamente legittimo, cambiate ministro di interni, esattamente quello che è avvenuto, fate cadere questo governo, cosa che non è avvenuto, andiamo a elezioni, cosa che non è avvenuta, no, c'è sempre la scorciatoia, la scorciatoia è quella di fottere il nemico per via giudiziaria, cioè quella di sperare che un nemico, grazie poi alla Severino lasciamo perdere tutte quelle minchiate là, possa non essere più agibile politicamente. Mi stupisco che tante persone che fino a ieri difendevano Berlusconi esattamente per motivi molto simili, anzi più gravi se volete rispetto a quelli di Salvini perché avevano a che vedere con cose supposte esterne alla sua attività politica, insomma che oggi tipo il foglio, tipo le verginelle della libertà soltanto alla carte, non si rendono conto come questo, sia un principio da difendere, un principio da difendere che oggi vedo difeso soltanto da un antisalviniano serio, come posso dire, composto come Battista, che è l'unico che ho visto che ha detto, ma ragazzi ma di che stiamo parlando? Io ho visto l'abbonino che vota a favore, l'abbonino è del partito radicale, dell'unico partito che ebbe il colaggio insieme al giorno di Liguori, l'unico a opporsi a quello scempio di mani pulite, anch'io ero trascinato da quella merda, l'unico partito fu quello radicale e oggi mi trovo là, i radicali dell'abbonino, radicali si fa per dire, quello che rimane di quell'idea garantista, tra l'altro vi rendete conto di che cosa stiamo parlando? Verrà le carte del processo, andranno a finire al procuratore, cioè all'accusa, questo zucchero, che aveva chiesto l'archiviazione di Salvini, cioè i senatori hanno detto processatelo e oggi le carte arriveranno dal procuratore che ha detto non lo voglio processare, io dico se questa cosa la vai a spiegare a Paperino, Paperino non ci crede, dice non è possibile, siamo nel nennesimo identico caso per i quali il non detto di questa vicenda è che la politica pensa di vincere grazie all'aiuto esterno e l'aiuto esterno è sempre quello dei magistrati, ricordatevelo, i magistrati quando vi fa comodo stanno con voi, quando non vi fa comodo stanno contro di voi, pensate di avere l'utilizzo della carta esterna per poter vincere le elezioni o il consenso popolare è una minchiata e soprattutto chi veramente pensa che si debba sconfiggere le politiche di Salvini, e ce ne sono tanti che legittimamente lo pensano e lo devono urlare, beh insomma sono i primi che dovrebbero sperare di farlo con il voto, ma non con il voto per l'autorizzazione a procedere, col voto degli italiani, con la ragione, con i programmi, con le ricette, non con la Gregoretti e ditemi pure che sono salviniano, ciao!